Musica Ultimo giro, ultima tappa col BMW 3.18 Il mondo che ci ha portato felicemente a Parigi, sulla Senna, con Saint Michel e adesso ce lo concediamo ad un'altra persona. Lo concediamo ad un'altra persona per fargli fare delle tappe meravigliose come le abbiamo fatte anche noi, capito? Ciao, arrivederci al posto di EMPTAPRIO. E ce lo faremo, prima di essere vecchi completamente. Ciao Francesca, ciao Enzo, ciao Luca, ciao Antonio e ciao Mia. Speriamo di averlo fatto il video.